bella a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati ad un mio nuovo video io sono xyuder ho finito la voce e ragazzi volevate le news bene torniamo a fare le news ragazzi nel video di oggi voglio parlarvi di un pochettino di cose che stanno capitando voglio farvi un pochettino un reset ecco diciamo un recap se volessimo essere più precisi si parla di fortnite su ios delle informazioni super interessanti che sono state rilasciate e che potrebbero farci sperare in un ritorno parliamo anche del nuovo fortnite crew pack e dei regali del trails fortnite insomma ragazzi un sacco di roba prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e se la ritrovo di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che tratta proprio della rivelazione che è stata fatta per quanto riguarda fortnite su ios ci sono state delle richieste da parte del giudice direttamente al ceo di epic games non sappiamo ovviamente pubblicamente quale siano state queste richieste ma il fatto che l'ultima sentenza deve essere appunto decretata e che sia stato richiamato il ceo potrebbe appunto far sperare che ci sarà realmente un ritorno a patto che ovviamente epic games non regoli i conti con apple e per regoli i conti si intende risistemi il prezzo dei v bucks o paghi comunque una quota che possa coprire ovviamente la possibilità di acquistare i v bucks dalla loro store magari ci sarà questa modifica per quanto potrebbe essere impensabile solo su ios la cosa che dobbiamo ricordarci è che non è ancora stata fatta la sentenza e anche che invidia aveva un attimino fatto vedere delle collaborazioni proprio qualche settimana fa per quanto riguarda la velocità di cui che stanno lavorando appunto per i loro dispositivi sui quali si appoggia il motore grafico di fortnite quindi ragazzi tanta roba stiamo a vedere incrociamo le dita che magari potrebbe finalmente tornare andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché lei ragazzi l'argomento del video la nuova fortnite crew pack la nuova skin ragazzi che in inglese loro chiamano v noi potremmo chiamarla v oppure 6 perché sembrerebbe anche un numero romano ma in realtà non ci interessa perché notiamo ovviamente delle somiglianze per quello che riguarda la skin di alla deriva la volpe sopra il clan fox ragazzi che non è da sottovalutare ne abbiamo già parlato ragazzi del nuovo del vecchio clan fox e fra poco vi faccio vedere anche dei post che sono stati pubblicati sulla pagina twitter ufficiale di fortnite crew di fortnite di febbraio una nuova e astuta guerriera in corsa contro il tempo arriva nella crew di fortnite ti presentiamo vi l'ultima speranza del clan della volpe vi arriva per i membri attivi della crew di fortnite il primo febbraio circa alla una ora italiana e non sarà più disponibile dalla fine di febbraio insieme al suo costume il pacchetto crew di fortnite include il dorso decorativo fare tra arco della volpe il piccone artiglio ad unco la copertura traslazione alla deriva e una schermata di caricamento vi ricordo ovviamente che non sarà poi più possibile tra qualche giorno acquistare il pack dove c'è green arrow che è veramente molto molto bello uno degli ultimi supereroi che fortnite ha deciso di inserire quindi se state ancora pensandoci io personalmente vi consiglio di prenderlo perché è molto bello vi ricordo che ogni crew pack mensile vi garantisce anche mille v bucks quindi mi raccomando ricordatevi anche che in fondo non è che spendete proprio così tanto abbiamo delle altre immagini un pochettino più dettagliate della skin davvero molto molto bella due varianti la schermata di caricamento la prima schermata di caricamento di un crew pack bellissimo anche il dorso e ovviamente i v bucks queste ragazzi sono delle frasi che sono state scritte ovviamente era tutto una roba per far salire l'hype della skin dalla clan fox che si dice abbia hackerato la pagina twitter di fortnite e gli hanno scritto appunto establishing connection beginning scan possible match found drift drift do you read me parlavano ovviamente tra di loro hanno pubblicato parecchie di queste frasi è molto molto divertente perché comunque faceva un pochettino interagire anche gli utenti parlavano insomma che questa skin è scappata e adesso la vedremo quindi molto probabilmente anche il clan fox potrebbe rientrare in qualche modo diciamo nella storyline di fortnite o comunque in una side line insomma staremo a vedere e chiudiamo ragazzi con un altro super argomento interessante perché ci sono ben tre regali che stanno per arrivare e che potete in realtà già organizzarvi per ottenerli si chiama winter trials la nuova come dire cosa la nuova e le nuove ricompense il nuovo evento di fortnite complete daily action for awesome rewards allora innanzitutto dovete andare su www.trials.fortnite.com in questo modo ci sarà tutto il regolamento perché è veramente lunghissimo come vedete ci sono appunto tre regali il primo lo ottenete subito è uno spray l'altro lo ottenete allo step numero 6 è un adesivo di una palletta di neve l'ultimo allo step numero 12 tanta roba ragazzi è una copertura la copertura è quella che vi sto facendo vedere in questo momento questa invece è l'adesivo e ovviamente questo è lo spray giustamente voi mi dite ex-huter come si fa ad ottenere come li ottengo questi regali allora non siamo proprio noi che li possiamo riscuotere ma dobbiamo stare a vedere i grandi streamer quindi c'è dentro tipo nike h30 c'è dentro lo 72 hours ci sono dentro altre persone forse l'aclan se non ricordo male quindi vi reinvito ad andare a vedere il sito dedicato per poter avere tutte le delucidazioni e quindi partecipare ovviamente avrò ancora modo domani mattina vi caricherò un altro video news ricominciamo alla grandissima e non vi preoccupate che i terror aggiornati anche su questi regali io per oggi ragazzi le news le ho terminate vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare il pollicione in su raga lasciate un like un commentino vediamo se sale l'algoritmo e ovviamente domani mi trovate in live sulla piattaforma viola ciao il problema è che questo video non ha raggiunto ancora gli 8 minuti e se voglio monetizzare agli 8 minuti devo arrivare ma ne mancan proprio pochi e io vi ringrazio assai e noi ci vediamo domani ciao ciao